Dai Stefano! Grazie a tutti! Dai, sei che devi tornare indietro, adesso. Dai, Stefano! 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 Per la nuova serie, Cento Rano Maschi sono pronti alla partenza. Alla 1, Alberto Zerbini, Bissolati. Alla 2, Cristian Regni. Seconda parte a nuoto alla 3, Emilio Paolo Ardone. Bissolati alla 4, Tommaso Marendi. Baidesio alla 5, Vittorio Corsico Skyline. Alla 6, Lippo Scaravella. Bissolati alla 6, Stefano!